I vostri decreti sono stati fatti, tutti e due, il giorno dopo già erano fatti i decreti, ora sono andati, tutti e tre, sono andati alla copertura finanziaria, cioè la trasmissione per la copertura finanziaria. Appena arriva la risposta, perché già c'erano queste finanziaria, l'imputazione deve essere fatta comunque. Appena arriva questa cosa, e non voglio sbagliarmi, dovrebbe arrivare molto presto, perché hanno delle necessità un pochino particolari, capisciam? Allora, questo per telefono non puoi parlare, ma pure quando ti chiamo io per telefono, lì mi sembra vicino, sono cose delicate, non so niente, stava presto. E' 20 euro? Ok, ma è 300 euro, 100 euro, ce l'ho ancora imposto a metà, a metà. 11 euro, 14 euro, 12 euro, 15 euro. sono andata a casa, ti volevo dire a Anne che si è messa a dice la sorella qua e là, non ti preoccupare stanno bene, stanno benissimo, hanno due altissimi stipendi, niente sconti. Va bene cara, va bene, va bene. Non te lo potevo dire in gioco, però se... Eh, beh, giustamente non potevo dire, è giusto. Ciao. Ciao, ciao.